siamo giunti alla quarta puntata del cantiere creativo i ragazzi dei gruppi che hanno lavorato finora quindi tiago franco i romantici e guarracinici stasera al bag di bacoli si esibiscono mettendo in frutto quello che è stato il lavoro di questi mesi hanno sviluppato e lavorato su brani propri e su cover gli insegnanti dario franco gianni guarracino agostino mennella e carlo lamanto si sono occupati di degli arrangiamenti e di quant'altro di fare in modo che ogni gruppo stasera abbia le condizioni per potersi esibire in un mini concerto quindi come se fossero stasera tre mini showcase il primo gruppo che stasera si esibirà in questo mini concerto è il gruppo dei guarracinici l'insegnante che ha seguito i ragazzi e naturalmente gianni guarracino buona buona No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 1, 2, 3 3, 3, 4, 3 ed è una rielaborazione come vi suggeriscono alla regia del maestro Gianni Caracino che ringraziamo e per quale va un applauso. Grazie! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.